Bentornati in questa nuova intervista, parliamo di voci e lo farò in compagnia con grande piacere di Riccardo Vanzetti, direttore Italia di ReadSpeaker. Ciao Riccardo, ben arrivato. Ciao, grazie per l'opportunità. Grazie a te. Allora Riccardo, dicevamo, parliamo di voci. In questa intervista ci racconterai un po' come la vostra azienda da anni presente sul mercato e si occupa di questo utilizzando l'intelligenza artificiale. Ma lascio a te prima una presentazione, ci fai un po' una introduzione di ReadSpeaker? Sì, volentieri. ReadSpeaker è nata nel 1999 e si è sempre occupata di sintesi vocale ma all'inizio utilizzava la sintesi vocale di altri fornitori. Ma l'intuizione iniziale di uno dei cofonditori di ReadSpeaker di utilizzare la sintesi vocale non solo per applicazioni che aiutano in qualche modo i ciechi a utilizzare il computer ma che potessero essere utili queste applicazioni anche ad altre categorie di persone. Dicevo, l'idea è nata proprio da uno dei cofondatori di ReadSpeaker che è completamente cieco, si chiama Fredrik Larsson, uno svedese che appunto ha pensato che la sintesi vocale poteva essere utilizzata in diversi ambiti applicativi e da lì è nato un po' tutto. Oggi ReadSpeaker fa parte di una multinazionale giapponese che si chiama Hoya. Devo dire, è una storia che parte come sempre da una grande necessità però bello che ha trovato subito un campo di applicazione. Andiamo un po' come dire nelle mostre soluzioni, raccontaci un po' come l'intelligenza artificiale sicuramente fa parte, ce l'hai raccontato anche nel tuo intervento all'interno della AI Play, contribuisce alla realizzazione di queste voci. Ci vuoi raccontare un po' quali sono le soluzioni, i prodotti che offrite sul mercato? Sì, dunque i campi applicativi sono numerosissimi. Si va dai sistemi di accessibilità, quindi diamo voce a delle apparecchiature e anche a dei software, delle applicazioni per cui alcune categorie di utenti beneficiano della sintesi vocale. Ma la voce è utilizzata in contesti completamente diversi. Vocalizziamo contenuti testuali su piattaforme e-learning, vocalizziamo articoli di quotidiani online, la voce sintetica è utilizzata per i messaggi al pubblico nelle stazioni, sugli autobus, utilizzata per campagne di marketing e anche in quelli che vengono chiamati sistemi conversazionali, quindi dove c'è un'interazione uomo-macchina e dove la sintesi vocale in combinazione con il riconoscimento vocale permette appunto di creare dei sistemi conversazionali. La particolarità è che oggi l'intelligenza artificiale permette di creare delle voci che sono molto simili alle voci umane e da lì è nata anche l'esigenza e quindi il rispiegere molto impegnata in questo settore di creare voci personalizzate, ovvero voci che rappresentano il brand delle aziende che desiderano identificarsi anche tramite l'audio, tramite il parlato. Quindi non più solo il classico logo, i colori, la palette dei colori, elementi di riconoscimento che ormai siamo abituati a vedere in giro, che abbiamo studiato chi come me nel mondo del marketing, insomma delle basi, delle fondamenta per farsi riconoscere, è bello questo concetto di marchio legato anche alla voce, quindi un brand che riesce tramite anche una propria voce che ha determinate caratteristiche e riesce a distinguersi. Voglio chiederti appunto Riccardo, com'è i vostri clienti? Stanno utilizzando le vostre soluzioni anche magari con quale impatto economico, quali risultati? Sì, dunque l'intelligenza artificiale come abbiamo accennato ha aperto veramente nuove possibilità e nuove opportunità di business. I nostri clienti sono perfettamente consapevoli che le soluzioni che utilizzano voci read speaker, quindi voci di altissima qualità espressive, sono al top dell'innovazione. Già questo aspetto consente loro di implementare le voci in situazioni di business per cui generano dei ricavi. Vi faccio l'esempio classico dei quotidiani, i quotidiani online vivono di pubblicità. Il poter utilizzare delle voci customizzate che attraggono un maggior numero di sottoscrittori delle applicazioni mobili, piuttosto che di lettori che fruiscono dei contenuti testuali attraverso l'audio anziché attraverso la lettura dei testi, questo ha permesso a determinate aziende di aumentare il numero dei lettori, aumentare il numero dei sottoscrittori e quindi generare un maggior numero di ricavi. Ma questo è solo un esempio tra i tanti che posso farvi in diversi settori. Certo, si entra in affinità, anche quasi in sintonia con la voce. Io sono un grande ascoltatore ad esempio di podcast e sono molto affezionato a determinati podcast perché ormai chi racconta quella storia del podcast è un po' come se fosse diventato un mio amico, lui non lo sa, lei non lo sa, ma in realtà con la sua voce e con quelle caratteristiche riesco a, come dire, avere una sorta di compagnia. Come si fa una voce? Perché poi mentre raccontavi mi sono, come dire, venute cento domande da farti, ma in realtà la più importante è come si crea una voce che parte, come dire, da un'esigenza importante come quella che dicevi, cioè essere una voce molto simile a una voce umana, quindi non, come dire, robotica ma davvero che abbia quelle sfumature, quelle intolazioni, quelle pause che abbiamo noi esseri umani. Sì, dunque, la domanda è interessante perché io che ho potuto ascoltare veramente le, chiamiamole così, le origini della sintesi vocale, quindi quando i primi sintetizzatori venivano usati in produzione, per cui mi riferisco appunto per esempio a quell'episodio della trasmissione RAI dove fu utilizzato un sintetizzatore vocale molto robotico, addirittura alcune parole non si riuscivano a distinguere e vedere la differenza con oggi, beh, in quasi mezzo secolo si sono fatti passi da gigante. Ma un grosso passo, lunghissimo passo è stato fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni grazie appunto all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale. E queste voci per essere create richiedono, diciamo così, delle competenze umane, quindi il primo e più importante elemento, chiamiamolo così, è il fattore umano, cioè quale e quante competenze all'interno dell'azienda vi sono per produrre una voce di alta qualità. La tecnologia è facilmente reperibile sul mercato, o meglio, è reperibile non facilmente, ma è reperibile, è disponibile come gestione di qualsiasi tipo di tecnologia, ma il fattore umano e i processi, quindi i vari passi per produrre una voce dall'andare in studio di registrazione, registrare con certi criteri, creare il materiale adatto per poi arrivare alla fase di sviluppo e all'ultima fase, quella del controllo di qualità, che dura poi nel tempo, anche una voce viene messa in esercizio e noi garantiamo la correzione della pronuncia durante tutta la fase di produzione, quindi se la produzione durerà 10 anni, noi per 10 anni continueremo a correggere e a diminuire il livello di errore che la macchina comunque potrebbe compiere. Wow, wow, c'è davvero un grande lavoro, sappiatelo. E che cosa mi sta, come dire, attirando rispetto a quelle che sono invece le tendenze future? Si parla tantissimo, mai come in questi giorni, in queste settimane di intelligenza artificiale, in tanti altri ambiti, chiaramente in quello conversazionale, degli LLM, eccetera. Nel vostro ambito invece c'è qualche, come dire, novità che state tenendo d'occhio? Che si può dire, Erika? Sì, 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 certe cose ovviamente non sono autorizzato a dirle, però, allora, diciamo che io credo che questo sia un periodo dove mi sento ancora nell'età pioneristica, cioè l'intelligenza artificiale ha creato un nuovo inizio, diciamo la sintesi vocale 2.0, chiamiamola così. Perché? Perché ha aperto veramente nuove possibilità di generare voci altamente espressive. Se posso dire, sono tantissimi campi dove questa voce potrebbe essere utilizzata, ma credo che oggi quella che viene chiamata intelligenza artificiale generativa e che, per quanto riguarda il nostro settore, cioè la vocalizzazione di testi, sarà un po' il futuro dei prossimi 3-4 anni. L'intelligenza artificiale generativa, noi stiamo vedendo che sta creando quantità di testi che prima non esistevano e questo materiale testuale o si legge o viene vocalizzato, ma la capacità umana di leggere il materiale testuale è sempre la stessa. Se aumenta il materiale testuale generato grazie a questi sistemi, necessariamente dovranno esserci dei sistemi che lo vocalizzino. E qui ovviamente entriamo in gioco noi. Entra in gioco Red Speaker. Riccardo, prima di salutarti, se vuoi dare, come dire, un messaggio ai manager, all'imprenditore, tutti gli iscritti e ai play in generale, alla nostra community, di come l'intelligenza artificiale può davvero dargli una mano. Sì, beh, come prima cosa direi a qualsiasi azienda, imprenditore, di affidarsi a società o organizzazioni professionali, perché nel campo dell'intelligenza artificiale e anche della sintesi vocale vediamo il nascere e il morire di una quantità di organizzazioni che propongono, per esempio, voci o anche neurali, senza avere nessun tipo di contratto con l'origine della voce, per esempio con gli speaker, per cui vi sono delle aziende che magari utilizzano inconsapevolmente una voce prodotta da un certo portale e poi scoprono che quella voce non è autorizzata per quel campo applicativo. Quindi la prima cosa è un po' di cautela nel selezionare i fornitori. La seconda cosa è quella di iniziare a pensare effettivamente dal punto di vista del brand vocale. La parte di, diciamo così, di marketing auditiva è stata un po' slobbata negli anni passati, si è sempre pensato alla parte visiva. Il marchio io lo guardo, quel marchio lo individuo con un'azienda. Oggi la parte auditiva è importante, per cui suggerirei a tutti gli imprenditori di pensare come il proprio brand potrebbe beneficiare di una personalizzazione, quindi di avere una propria voce per comunicare con gli utenti, con i consumatori. Certo. Riccardo, io ti ringrazio davvero per questa rapida intervista, ci hai aperto un mondo. Per chi vuole approfondire il tema della voce, l'invito è sempre quello di andare a recuperare su AIplay.it, il video di Riccardo che ci ha registrato su le voci appunto generate dall'intelligenza artificiale e come utilizzarle nella propria azienda soprattutto per identificare il vostro marchio. Grazie Riccardo, alla prossima. Grazie a voi.